Siamo qui all'ordine dei farmacisti per presentare la giornata farmaceutica per la solidarietà organizzata dall'Agifar di Agrigento, dai giovani farmacisti di Agrigento, che si terrà il prossimo 30 maggio al Teatro Pirandello. Il centro della serata riguarderà la prima nazionale del musical Dream Bot di Marco Salatteri. L'obiettivo della serata sarà quello di raccogliere fondi per l'acquisto di un camper farmacia mobile, che sarà messo a disposizione dei colleghi che fanno parte dei farmacisti volontari della protezione civile e che come Agifar tra l'altro ci stiamo impegnando per far sì che anche ad Agrigento a breve si costituisca l'associazione. L'utilità del camper è importante, perché servirà proprio per continuare a consentire la dispensazione dei farmaci, quindi la continuità del servizio farmaceutico, in zone in cui si verificheranno calamità naturali. Quindi diciamo che già a livello nazionale ne esistono due esempi, uno a Cuneo e uno a Pescara, che si sono tra l'altro formati dopo l'evento sismico del verificato se non fa in Abruzzo. Quindi diciamo che l'impegno è notevole e stiamo aprendo proprio questa strada partendo proprio dalla giornata farmaceutica per la solidarietà del prossimo 30 maggio.